Al Cinema Italia di Belluno di scena il documentario I Am The Revolution di Benedetta Argentieri, una proiezione pomeridiana che ha riunito diverse realtà associative del territorio, con lo scopo unitario di sensibilizzare la popolazione sulla tragica situazione delle donne afghane, notevolmente peggiorata con l'arrivo dei talebani. Non una di meno, insieme si può ed Emergen, si sono scese dunque in campo ancora una volta con tenacia e determinazione. Il ricavato dell'evento è andato all'Associazione Rawa, organizzazione al femminile attiva in Afghanistan e in Pakistan. Combattere la violenza lo si fa fondamentalmente combattendo l'esclusione, la marginalità e la mancanza di parola. Per questo tutte le situazioni del mondo, secondo me non è di meno, contano. Le nostre presenti territoriali e quelle qualunque altrove. Per quanto riguarda l'Afghanistan, si è parlato moltissimo della condizione delle donne, in particolare all'inizio, quando gli americani hanno lasciato il paese e l'emergenza sembrava ci riguardasse direttamente. Rimangono donne sul territorio afgano che lottano per i loro diritti ed è il nostro modo e l'occasione per raccogliere soldi e sostenerli. Il 25 settembre abbiamo lanciato un'azione globale, noi sullo scala nazionale, per richiamare l'attenzione su quello che è il messaggio che le donne afghane chiedono di replicare, e diffondere a livello internazionale per proteggere i loro diritti e quelli di tutto il popolo afgano. Emergency è presente in territorio afgano dal 1999 con svariati centri chirurgici e di soccorso. Nei primi otto mesi di quest'anno i suoi ospedali hanno già ricoverato oltre 4.000 pazienti vittime di guerra, un aumento del 152% rispetto al 2011. Non ci sorprende che oggi si parli dell'Afghanistan, ci sorprende che per tutti questi anni, per gli anni passati, la situazione sia passata un po' meno sotto la nostra attenzione, quindi noi siamo qui oggi per ribadire che l'emergency in Afghanistan c'è, che conosce bene la situazione, che non se ne va ma anzi che rafforzerà e che vuole rafforzare il suo impegno.